Simone Bozzato, segretario generale della Società Geografica Nazionale e professore di geografia dell'Unione Europea all'Università Torvergata di Roma. Che bisogno c'è oggi in Italia di far conoscere l'Unione Europea e i paesi dell'Unione Europea? Ma è un bisogno sostanziale in quanto noi abbiamo un'esigenza reale nel nostro paese di capire quali sono le reali opportunità dell'Unione Europea per il nostro paese e per i paesi che comunque concorrono alla realizzazione. È un incremento che poi in realtà avviene in modo ormai quasi naturale. Ricordo semplicemente che tantissimi sono i paesi che hanno chiesto un accesso all'Unione Europea e questo sicuramente ha un motivo, ha un valore. Affrontarlo poi come abbiamo fatto oggi in questo splendido incontro dall'ottica di un paese che a tutti appare profondamente in crisi, profondamente in difficoltà, vista quasi come una cenerentola del sistema europeo che è la Grecia, secondo me è un valore doppio, forse esponenzialmente addirittura rilevante, in quanto quanto ci ha detto Francesco De Paolo e quanto Dimitri De Liolanes ci ha ribadito con prospettive molto differenti tra loro ma comunque con una dimensione di interesse profonda, ci porta a un'esigenza sostanziale che è quella di analizzare un nuovo modello probabilmente per l'Europa, un modello per l'Unione Europea che è quello poi dei padri fondatori fondamentalmente. Cosa è emerso oggi in questo splendido incontro? Il pubblico peraltro l'ha recepito ed è stato molto attivo in questo. È emersa un'esigenza di ragionare su parametri differenti, su modelli che vanno costruiti sulle esigenze dei singoli paesi, su un modello che non può essere l'elemento centralizzato che poi nelle periferie in qualche misura trova attuazioni radicali senza analizzare le esigenze dei territori. La Grecia oggi vive questa difficoltà, la Grecia vive una difficoltà che vedremo con Sipras come affronterà ora, si è appena insediato in questa nuova esperienza governativa, peraltro da poche attese e quindi siamo tutti molti curiosi di capire che cosa verrà realmente, però oggettivamente ci troviamo nella condizione nella quale credo che la presenza di Sipras sia un grande momento di riapertura della discussione su che cosa si vuole realmente nel modello attuativo di Unione Europea. La stessa Italia si confronterà secondo me attraverso una esigenza sostanziale di rivedere molti dei fattori che stanno dominando il sistema europeo, l'Europa della finanza, l'Europa dell'economia, l'Europa dello spread, tutti i fattori che non andranno trascurati e che non possono essere trascurati, evidentemente Sipras stesso in qualche misura ammorbidirà alcune posizioni su tutto questo, ma probabilmente si sposterà la bilancia e io me lo auguro veramente perché credo nell'Unione Europea rispetto a dei temi che vedano nella cultura europea il dato sostanziale. Questo potrebbe essere realmente un dato positivo, se andrà così sarà un dato positivo e si affronteranno tutte le situazioni di difficoltà con una modalità differente. Significa spostare il baricentro dell'Europa? Forse significa anche un pochino spostare il baricentro dell'Europa, forse significa non ragionare più con una dimensione di Europa Mediterranea e Mitteleuropa o Nord-Sud. C'è un'esigenza differente, c'è un'esigenza sostanziale di ragionare su un aggregato che si riconosce su dei valori comuni e che forse negli ultimi anni, direi toglierà anche il forse, ha ragionato con parametri che escono da una dimensione di unità, da una dimensione di aggregazione, da una dimensione di valore etico delle logiche europee, ma che si è poi riscontrata con un'esigenza di personalismo, di forza impositrice, dimensione che sicuramente non si attaglia a quello che dovrà essere la prossima Unione Europea.